Dopo 11 anni dal terremoto finalmente si è sbloccato anche l'iter per la ricostruzione dello storico palazzo della provincia dell'Aquila in via Sant'Agostino che sarà chiusa al transito dal 10 al 15 maggio perché sono partite le operazioni di demolizione con diverse modifiche alla viabilità. Nei giorni scorsi in città era stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori, lavori per più di 15 milioni di euro. Il palazzo al termine dei lavori sarà un edificio strategico che andrà ad ospitare sia le strutture di vertice che agli uffici amministrativi come una volta che ora sono in via Monte Cagno. La prima fase dei lavori è avviata dal direttore dei lavori Marta Fiorelli del Probeditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzza e Sardegna mentre il procedimento è curato dal settore edilizia scolastica e pubblica della provincia dell'Aquila diretto dall'architetto Stefania Cattivera. Ripartiamo con una ricostruzione importante, una ricostruzione che non è soltanto la sede della provincia dell'Aquila ma è anche la riqualificazione di un luogo che ha importato un investimento di 15 milioni e 600 mila euro da parte della provincia con i finanziamenti ovviamente ottenuti dal Ministero, un intervento per il quale si prevedono due anni di lavori sostanzialmente nel 2023 secondo il contratto prevediamo la ricostruzione e quindi la ultimazione dei lavori. Un intervento che ha visto un'azione molto coesa del governo della provincia e del comparto amministrativo e quindi un intervento che sostanzialmente ha mirato a quella che è un'azione importante, un'azione che contribuisce insieme a tutti gli altri interventi alla riqualificazione del centro storico dell'Aquila. Per arrivare sin qui c'è stato un inter molto complesso come si ricorderà e non senza ostacoli la fase di demolizione del palazzo dovrebbe terminare entro luglio mentre per la costruzione dell'edificio saranno necessari altri due anni con il termine dei lavori fissato nel 2023. Io ho ovviamente il dovere di ringraziare in primis il consigliere Francesco De Santis che a questo intervento ha tenuto tanto, ha lavorato allacremente, ha spinto per tutte le fasi, quindi per il superamento di tutte le difficoltà nel frattempo che sono intervenute per l'avvio di questo intervento. Ringrazio ovviamente anche tutta l'opera di collaborazione del vicepresidente Vincenzo Calvisi, del consigliere Berardino Morelli e di Luca Rocci.